A pochi giorni dalla fallita rapina ai danni dalla filiata del Banco di Sardegna del quadrivio a Nuoro e a poche ore da quella messa a segno in un tabacchino nel corso, gli agenti della squadra volante della questura di Nuoro hanno sventato un colpo che stava per essere messo a segno con ogni probabilità nell'ufficio postale di via Icnusa, nel rione di Monte Gurtei. Anche in questo caso, come del resto nella rapina messa a segno ieri nella tabaccheria Macioni, i protagonisti sono dei minorenni di 16 e 17 anni. Gli agenti nel corso di un controllo di routine hanno notato due ragazzi a girarsi con fare sospetto nei pressi della filiale delle poste italiane. Alla vista della volante, i due giovani, risultati poi esseri originali di orune e minorenni, sono scappati. Ne è seguito un breve inseguimento che si è concluso col fermo dei due ragazzi. Nel corso delle perquisizioni personali, i poliziotti hanno trovato addosso ai due giovani una pistola giocattolo, dei passamontagna e dei guanti in lattice. Portati in questura per le formalità di rito, i due ragazzi sono stati segnalati al Tribunale dei Minori di Sassari che ne ha disposto l'affidamento ai genitori.